ma che fai? mi piedi per mano? per non farti cadere ma sei impazzito per non farti cadere mi porto in spaletta cazzo cioè ma siamo persone normali o secondo me no sì però anche te attraversi fine di lì per poi attraversare ancora e però non è che c'è molta chance non è piovuto un cazzo perché non ha preso via neanche questi non è piovuto un beato cacchio se cado qua faccio il tuffo ragazzi ma dove mi ha portato? questa potrebbe venire bomba mettiamola lì stavo tornando in vetro a prendere 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 and su regen stavo tornando in vetro cazzo attraversi stad